Una macchina fotografica? Volevamo le sue prime impressioni a caldo del suo primo volo. Cosa ne pensa? Penso che si sta meglio con i piedi da qui. Decisamente. Stai scherzando? No, stai scherzando? No, l'ho presa, è in sé. La macchina fotografica. Lei invece me le dice. Ma per il momento... Bene, stiamo bene. Non ho paranoia. No, non ho paura. No, non ho paura. Paola, vuoi salutare qualcuno? No, non ho paura. No, non ho paura. No, non ho paura. Non ho paura. No, non ho paura. Sto bene. Non ho paura. No, non ho paura. Non ho paura. Non ho paura, non ho paura. Non ho paura. Non sono appena. Non ho paura. Se nemmeno che i paura dal volo. Grazie per la visione!